Allora Gigi, la prima cosa che ti chiedo, questa vittoria con una squadra che nel secondo tempo cambia solo atteggiamento o cambia anche di più? Insomma, c'è stata una bella scossa di energia, quella di sicuro, ma ha anche fatto qualche adeguamento che secondo te potrebbe essere stato decisivo oggi, ma anche da ripetere per le due gare importantissime di Borgossese. Oggi, guarda, grandi adeguamenti delle due squadre non ci sono stati, è stata una partita abbastanza speculare a gara 1, loro hanno fatto le stesse cose, hanno tenuto un po' di più la zona rispetto a domenica, che poi è una zona che si adegua, diventa uomo praticamente, quindi poi alla fine cambia il giusto. Quindi non ci sono state grosse novità dal punto di vista tattico. Noi onestamente abbiamo fatto molto più canestro da fuori, abbiamo aperto di più giocandolo contro la loro difesa pick and roll, siamo riusciti soprattutto con Michele a trovare degli arresti e tiri efficaci. Questo cambia dopo tutta la dimensione dell'attacco perché riusciamo poi anche a andare a rollare vicino al canestro, abbiamo gli spazi e riusciamo a giocare meglio. Quindi secondo me la chiave di oggi è stata il riuscire ad attaccare la loro difesa facendo qualche canestro in più dal perimetro e questo poi ci ha agevolato nel proseguo. Poi è chiaro che facendo un paio di canestri in attacco e andando più 6, più 7 abbiamo messo il triplo di energia dopo anche dietro, ma questa è una cosa abbastanza normale. Quello Gigi che ci è mancato sia in gara 1 che ha perduto il primo tempo, cioè prendere quei 5-6 punti di vantaggio che infondessero quell'iniezione di fiducia sulla quale puoi investire. Dici domenica? Domenica ma anche nel primo tempo di oggi. Domenica li avevamo anche presi, eravamo più 5, Maggio non ha fatto quel tiro, lì purtroppo ci sono degli episodi che a volte possono cambiare le linee a partire. Per certo loro sono una squadra che non molla niente, l'avete visto anche stasera sul meno 20, hanno cercato comunque di tornare dentro, non mollano un centimetro. Sostanzialmente la partita di sfera secondo me non cambia niente, nel senso che avrebbe cambiato in maniera disastrosa perdendola, perché a quel punto rischiamo di andare là già battuti, però sostanzialmente questa vittoria ci consente di andare là a cercare di rimediare quello che abbiamo fatto domenica. È tutto qua, non cambia la prospettiva, bisogna comunque cercare di vincere là. E per vincere là? Domanda dare 100 pistole, cosa bisogna fare? Bisogna giocare una partita come il terzo quarto di stasera per 35 minuti, non dico 40 perché è un po' difficile, però per 35 minuti. Loro poi in casa, come poi tutte le squadre, hanno un campo non troppo grande, giocano con, se è possibile, ancora più energia, per cui bisogna andare là con grande, intanto bisogna recuperare le energie, perché due partite in 48 ore si sentono a qualsiasi età. Quindi cerchiamo domani di recuperare il più possibile, giovedì guardiamo ancora qualche aggiustamento, stasera siamo stati un pochino più puntuali su alcune situazioni, abbiamo sofferto ancora Giovara, abbiamo già sofferto domenica, perché è un lungo atipico che gioca da lungo, perché si è fatto male. Santa Rosa, però secondo tempo zero, Giovara. Sì, per fortuna, perché insomma si giocava sempre come primo tempo, gli diamo una candidatura per MVP del campionato. Esatto, detto questo, bene bene, lui in questo ruolo inedito di numero 4 ci ha fatto, ci dà fastidio, perché non ha tiro da fuori, anche se stasera ha messo una bomba, anche lui, però ha questa dimensione che riesce ad andare in basso d'attacco con queste braccia lunghe, e poi riesce ad andare con questo palleggio, pur essendo mancino verso destra in questo gancetto, che è difficile da difendere per dei lunghi normali, perché è una velocità di piedi inusuale per un lungo normale. Hai trovato qualcosa da molti della panchina oggi? Sì, sì, oggi la panchina ha fatto abbastanza bene, siamo riusciti a trovare energia nel momento dove si stava decidendo la partita, e quindi va bene. Rimane il fatto, ripeto, che la chiave tecnica secondo me è stata quella che avevo detto prima, ma dopo da lì scatta quell'adrenalina, quell'energia che ti fa capire che ci sei, che ce la puoi fare. Noi abbiamo necessità di aprire un po' quella difesa, perché è una difesa molto, molto conservativa, che chiude tutti gli spazi in area, e quindi o mettiamo la palla dentro al nostro lungo, oppure riusciamo a fare con il canestro in più da fuori. Oggi abbiamo fatto abbastanza bene mettere la palla dentro, ma questo l'avevamo fatto già domenica nel primo tempo, domenica in me non avevamo mai fatto con il canestro da fuori, oggi un po' di più, e questo fa tutta la differenza del mondo.